Cos'è il polso? La caduta del polso, che è anche chiamata neuropatia radiale o paralisi del sabato sera, è causata dal danno al nervo radiale del braccio. I suoi sintomi includono debolezza e intorpidimento, che possono richiedere giorni o mesi per guarire. La caduta del polso è spesso il risultato di una seduta con il braccio in una posizione insolita per un lungo periodo di tempo. L'incapacità di allungare la mano o alzare la mano usando il polso sono anche i sintomi di questa condizione. La mano o il polso potrebbero essere deboli e anche le dita potrebbero risentirne. Anche il torpore diffuso su tutto il polso, la mano e le dita non è raro. Altri sintomi includono dolore al polso, dolorabilità e gonfiore. La neuropatia radiale è il risultato di una lesione del nervo radiale. Questo nervo è attaccato al midollo spinale e si sviluppa spirale attorno al braccio, controllando la sensazione della pelle e i muscoli del braccio, del polso e della mano. La condizione si verifica quando il nervo radiale si comprime o si danneggia. La compressione del nervo radiale si verifica più spesso dopo essersi seduti in una posizione scomoda, come avere il braccio appoggiato sullo schienale di una sedia dura per un lungo periodo di tempo. Succede spesso alle persone che hanno bevuto o che hanno assunto droghe e poi si sono addormentati in questa posizione scomoda. La maggior parte delle persone sobri si svegliava da questa posizione dolorosa prima che si verificasse il danno. Questa condizione è anche nota come paralisi del sabato sera, come spesso accade dopo una notte di festa. Generalmente, la caduta del polso si cura nel tempo. A seconda dell'estensione del danno, questo può variare da diversi giorni a diversi mesi o più di un anno. Il tempo di guarigione dipende interamente dal fatto che il nervo radiale sia danneggiato o meno e possa guarire se stesso o se parti del nervo siano così gravemente danneggiate da dove ricrescere. In genere, un medico sottoporrà ai pazienti a una stecca e partecipa alla terapia fisica. In rari casi, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per riparare il problema. Ci sono una serie di esercizi che sono raccomandati ai pazienti che soffrono di caduta del polso. Il polso può essere allungato tenendo il braccio dritto fuori dal corpo mentre la mano opposta flette delicatamente il polso verso il pavimento, quindi verso il soffitto. Si possono anche allungare le dita. Con un elastico avvolto attorno a tutte e cinque le dita, le dita possono essere allungate il più possibile. Questi esercizi possono essere preformati da individui con un leggero calo di polso, poiché non è possibile alcun movimento del polso o delle dita nei casi più gravi.